La ricchezza la determinano le imprese, dobbiamo smetterla di pensare alla pubblica amministrazione come ammortizzatore sociale. Le imprese sono la ricchezza, le imprese sono i soggetti che creano occupazione, quindi se mettiamo in movimento risorse sufficientemente copiose possiamo ridare spazio agli investitori locali ma soprattutto speriamo di poter essere attrattivi per gli investimenti stranieri. Investire in Sicilia conviene e questo dobbiamo necessariamente dimostrarlo rimuovendo le diseconomie che finora hanno condizionato e limitato l'investimento di capitale nella nostra isola. Possiamo e dobbiamo diventare attraenti e appetibili.